Io penso che prima di tutto non ci deve essere nessun problema a parlarne perché il Parlamento serve proprio per discutere delle questioni. La cosa che dico è che è un tema che troppo spesso viene strumentalizzato perché già oggi per i ragazzi c'è un percorso per acquistire la cittadinanza. Lo Ius Soli, chiamato un po' erroneamente Ius Soli perché sarebbe più un Ius Culture, tu dai un percorso alle persone per avere la cittadinanza dopo un ciclo scolastico in modo più agevole. E' chiaro che sono d'accordo a questo percorso.